Prima di iniziare, lo so, ho la barba in condizioni scandalose, ma sto registrando alle 6 di mattina per uscire con questo video e montarlo prima di iniziare a lavorare, quindi amen, due, sì, è la stessa camicia dell'altro video, ma non sto uscendo, perciò la utilizzo solo per questa occasione, almeno, e sì, tre, sotto sono in mutande. Vabbè, ricapitoliamo un po' cosa è successo con il nostro caro Elon Musk. L'ultima volta che ci siamo visti, Musk non si è certo limitato attaccando la quarantena e dicendo che avrebbe venduto le sue proprietà. Beh, cos'è successo nel frattempo e tutti questi giorni? Partiamo dalle case. Elon le ha effettivamente messe in vendita, tre proprietà per 75 milioni di dollari, che tra l'altro con vari prestiti aveva rifinanziato negli ultimi anni. Di questo ce ne parla il New York Times in un'intervista che vi consiglio, specie se non bazzicate il mondo dei miliardari, non che io lo faccia, però vi fa capire due cose. Uno, che essere ricco non significa necessariamente non avere debito, anzi è proprio sul meccanismo del prestito e del debito che spesso si costruiscono molte delle fortune. Due, Elon è sì un miliardario per le sue quote in Tesla, SpaceX, eccetera, che sono stimate tra l'altro in 39 milioni di dollari, ma questo non significa che abbia la liquidità. E la liquidità è proprio lo stesso problema delle aziende in questo periodo di crisi. Liquidità significa soldi cash che puoi spendere per fare la spesa, intendiamoci, oppure nel caso delle aziende magari per pagare degli stipendi. E Elon sembrerebbe a corto da qui la scelta di vendere i suoi asset. Gli asset, come sappiamo, possono essere finanziari o magari anche immobiliari, ma la soluzione più facile potrebbe essere vendere qualche azione e incassare. Beh, in realtà no, perché vendere quote significa non avere più il controllo dell'azienda. Già, perché, per farla semplice, per chi non lo sapesse, se io compro un'azione di Tesla ho, teoricamente, una piccolissima parte dell'azienda e quindi un microscopico potere decisionale. L'analisi del Times è però stata smentita da Musk che sostiene invece di voler passare a uno stile di vita più semplice, che stia diventando un minimalista? Chi lo sa. Quel che è certo è che la situazione preoccupa in molti, perché da un lato Tesla è il secondo produttore al mondo, dopo Toyota, per valore di mercato grazie proprio alle sue azioni. Dall'altro, le sue azioni si sono dimostrate estremamente volatili, anche a causa di Musk, e i prestiti da cui Tesla dipende si basano anche da quanto i creditori credono che Musk possa essere in grado di fare la differenza e quindi portare Tesla a successo. Inoltre, il prezzo stesso delle azioni sarebbe influenzato da un Musk costretto a liquidare parte delle sue quote. Insomma, è tutto un gran casino. Nel frattempo, congratulazioni Musk, è nato il sesto figlio del Magnate, si chiama XAEA1272, no, quella è la ruota di Bari. Vabbè, secondo me il nome alla fine si pronuncerà Ozash o Zaya o Aieie Brazorf, qualcosa di genere. Vabbè, ma a questo punto passiamo oltre, oltre ai gossip, Elon ha deciso di alzare la posta decidendo di farsi arrestare, o almeno di provarci, perché l'impianto di Fremont è chiuso, chiaramente, per la quarantena. Così il buon Musk ha radunato il suo team di avvocati, li ha tirati giù dai letti proprio sabato, quindi nel mezzo del weekend, e ha minacciato poi di voler lasciare la California per colpa della Contea di Alameda, che è quella dove si trova appunto l'impianto di produzione. Non contento, impaziente, frustrato dal fatto che non poteva riaprire, ha annunciato che riaprerà proprio oggi la produzione, e tra l'altro ha detto, mi assumo io tutte le responsabilità, chiedendo quindi all'autorità di essere l'unico, eventualmente, arrestato in caso di un raid della polizia, lasciando quindi fuori tutti i suoi dipendenti da questo discorso. Tutto questo è stato accompagnato poi da una serie di tweet, perché potevano non mancare i tweet roventi, Lorena Gonzalez, deputata della California. Prima si tweetta un bel fuck Elon Musk come clickbait, che poi gli serve da ancora per un tweet successivo, dove ricorda dei sussidi statali che la California, proprio la California stessa, ha dato a Tesla, e su cui Tesla si è basata, non solo ovviamente la California, ma ha ricevuto tanti supporti. Bene, con questo episodio della sitcom 8 sotto un tetto solare è tutto, per ora Musk riuscirà a farsi arrestare, lo scopriremo tra poco, perché il nuovo giorno inizierà presto in America, nel frattempo io vi saluto e come al solito ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!